Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia che penso ti aiuterà a pregare. Un bambino un giorno chiese al suo papà, papà perché tieni appeso al muro un bastone, a che ti serve? Il papà si sedette, prese in braccio suo figlio e gli disse, vedi figliolo, quando avevo più o meno la tua età, andai un giorno al lago con il mio nonno. Era una giornata molto fredda, il nonno era ammalato, ma ci teneva tanto a stare con me e ad accompagnarmi. Mi raccomandò di non avvicinarmi troppo all'acqua dicendomi che era pericoloso. Io purtroppo non lo ascoltai. Appena mi fu possibile, di nascosto mi avvicinai quanto più potevo all'acqua. Purtroppo scivolai e vi caddi dentro, in un punto dove l'acqua era già alta. Il nonno mi sentì gridare, accorse subito, non esitò ad entrare anche lui nell'acqua, tendendo il suo bastone per prendermi. Con grande forza riuscì a tirarmi fuori dall'acqua, ma purtroppo quello sforzo gli fu fatale. Ebbe un grave infarto e non si riuscì a riprendere. Vedete, così è in un certo senso il modo con cui noi cristiani guardiamo ad un altro legno, al legno della croce. Nella croce, infatti, non vediamo un segno di tortura, quanto piuttosto vi leggiamo il segno di un amore infinito, dell'amore di Dio che per noi, per me e per te, ha donato fino in fondo tutto se stesso. Ecco perché San Paolo diceva Sì, soprattutto quando si affaccia allo sconforto, quando ti senti inadeguato, quando i sensi di colpa ti lacerano, quando ti senti inutile o pensi di non valer nulla, guarda la croce e ricorda queste parole. Ecco perché noi cristiani veneriamo quel legno, ci inginocchiamo davanti a quel legno. Per questo teniamo nelle nostre case una croce, spesso la portiamo anche appesa al nostro collo, per ricordare quanto Dio ci ama, come si ama, a chi dobbiamo guardare per amare anche noi, senza stancarci. Che il buon Dio ti benedica.